In questa puntata, panini fatti con le foglie, un supermercato minuscolo tra le palme e un emozionantissimo giro in moto d'acqua. Clemente emozionante che stavo per cadere verso la barriera corallina, guardate. Ahmed, cosa è? È di Bile. Mi racconta di questo è di Bile. È di Bile. Sì, Bile. È di Nass. Nass, quindi noce. Questo è huni. Questa è una spezia e questo riconosco il chiodo di garofano. Bene, sono molto spaventata. Questo qui ho sentito dire che è corallo con legno fatto bollire e questa salsina verrà messa all'interno di questo dessert. Ok, Ahmed, show me. Mamma mia. Con la foglia, ha fatto un bel panino con la noce, il corallo, il legno. Ok, Ahmed, grazie. Ho provato. Ho provato. Ho provato. Tutto? Beh, grazie. Molto spaventata a livello. Why do you use this kind of dessert? For your food? For our traditions. Most of the people after that are taking dinner or lunch. Most of the people using modern people, especially the modern people's tooth is very strong. That's the reason. It's very special, I would say. It's a fresh taste. It looks like a tooth. It's very good. It's flavorful. It helps you to keep your tongue trained. Ah, and you make your teeth white. It makes your teeth... Why do you? I have to drink a little. It's difficult. It's difficult. Yeah, I know. I have to drink a little bit of water. I have to drink a little bit of water. I have to drink a little bit of water. I've moltoastered. Yeah, dear friend. What? I'm very scared. What's that? The food is heavy. No. I don't know it's heavy. Difficile, eh? Un lavoro di fino. Ah, ma non vi abbiamo ancora detto dove fare la spesa. Un comodissimo negozio nel cuore dell'isola. Un comodissimo negozio. Per chi poi non volesse rinunciare a tutte le comodità del resort, la formula perfetta è Casa Mia, una guest house veramente a un passo di paguro dal mare. Il personale è veramente squisito, esattamente come in tutte le guest house che ho visitato fino adesso. In più qui però abbiamo una sala e ristorante molto grande, piscina, camere di ogni tipo. Ci sono anche i mini appartamenti con la jacuzzi sul terrazzo. Musica Scusate ma sto cercando di imparare la lingua. E poi anche molto divertimento con moto d'acqua, canoa e prossima apertura la spa. Infatti sapete che vi dico? Io mi vado a fare un bel bagno e poi vado a provare la moto d'acqua. Allora siamo pronti per salire su questo bellissimo jet ski con Fasil che speriamo vada piano. No ma in include, non entrao già. No non è tutaj già. E qua? Musica Motivata Musica curiosa Grazie a tutti. È stato pazzesco, ha corso tantissimo. Grazie a tutti.